il vaccino sono bella contenta avevo un po di paura ma adesso è tutto tranquillo è tutto tranquillo come vi sentite? benissimo benissimo adesso stiamo facendo poche pausa e poi andiamo a casa appena faccio il vaccino? bene è contenta? si cosa significa oggi per lei? non l'aspettava questo giorno questo vaccino? si si l'aspettava però non sappia quando adesso può abbracciare i nipoti? si come è andata questa prima giornata vaccinale per gli over 80? spero bene tutti soddisfatti i medici molto entusiasti perché è stata una giornata veramente emozionante per loro perché l'inizio è il primo centro territoriale vaccinale che abbiamo aperto sta funzionando tutto grazie dio alla perfezione 385 pazienti che stanno ricevendo o riceveranno nella giornata il primo vaccino Pfizer e quindi poi saranno convocati nuovamente tra 21 giorni c'è un lavoro tutto quanto dietro abbiamo coinvolto l'associazionismo abbiamo coinvolto le farmacie abbiamo coinvolto l'esercito militare che con il comando di Catanzaro ha mandato dei propri addetti proprio per garantire sia servizio d'ordine che collaborazione nella fase dell'accettazione così come le farmacie locali hanno dato la possibilità di conservare il farmaco all'interno dei loro contenitori quindi c'è un lavoro corale che appunto oggi sta fruttando molto bene perché appunto ci sono dei risultati importanti c'è tanta soddisfazione da parte dei nostri anziani abbiamo fatto tutto per loro perché gli anziani rappresentano un patrimonio culturale un patrimonio storico rappresentano la saggezza di una comunità e quindi è giusto che sono i più fragili ed è giusto che in questo momento gli diamo una mano per poterli tutelare nella salute